In occasione del cinquantesimo anniversario dell'Earth Day, in qualità di segretario generale dell'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, sono lieto di inviare anche quest'anno il contributo della nostra associazione. La crisi climatica è di fatti una delle principali sfide della nostra epoca e l'origine antropica del riscaldamento globale è ormai unanimamente riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale. L'eolico è uno dei principali protagonisti di questa sfida, grazie alla produzione sempre maggiore di energia pulita che ogni anno, solo in Italia, fa risparmiare un quantitativo di energia pari a più di 20 milioni di barilli di petrolio, corrispondenti a circa 10 milioni di tonnellate di emissioni evitate di CO2. L'eolico sarà inoltre, unitamente al fotovoltaico, la tecnologia a cui principalmente è affidato il raggiungimento degli obiettivi individuati dal nostro Governo nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Piano Italiano individua come obiettivo al 2030 essenzialmente un raddoppio della potenza installata da fonte eolica e l'ANEV, consapevole che il nostro Paese ha le potenzialità di risorsa vento idonee al raggiungimento di tale traguardo, continua a operare affinché ciò possa realizzarsi nel rispetto della tutela dell'ambiente. Siamo quindi uniti nella lotta ai cambiamenti climatici che passa necessariamente per una radicale transizione energetica e necessita di tecnologie che, come l'eolico, hanno raggiunto una maturità tecnologica tale da poter soddisfare i quantitativi di energia pulita necessari per una vera decarbonizzazione delle nostre economie e del nostro Paese.